Nel prosieguo del match interrotto per l'infortunio dell'arbitro Andrea Rizzello di Casarano, il Castelnuovo accade per zona 2 contro la Recanatese grazie alla doppietta di Minella in 25 giorni. Match destinato ad entrare nel suo piccolo, nelle curiosità e negli almanacchi storici. La partita, iniziata allo stadio Mariani Pavone di Pineto, si è conclusa al comunale di Castelnuovo Vomano. Si riprende dal calcio di punizione della partita precedente, il Castelnuovo si affaccia in avanti, De Gidio sgusci in aria e cade a terra. Tutto regolare per Aronne di Roma 1, i Neroverdi vogliono il pareggio, i Mili dalla distanza attesta i riflessi di Urbetis, lo stesso numero 10. Ci riprova ma l'estremo ospite si travesse da Superman e smanaccia in corner. La Recanatese chiude la pratica al quarto d'ora, su invito di sbaffo Minella sbuca al centro della difesa locale e batte nel giro di 25 giorni per la seconda volta Grace per il raddoppio marchigiano. Il gol incoraggia gli ospiti che ci provano con Raparo, sfera in corner, i giallorossi forti del doppio vantaggio e del poco tempo rimasto trovano spazi invitanti. Giampaolo prende la mira a Grace, tiene a galla i suoi, con orgoglio l'11 di mister Di Fabio prova ad accorciare le distanze. Sul lancio lungo nuovamente De Gidio cade per la seconda volta in aria per il fischietto Capitolino, giallo per simulazione ai danni del numero 7. Il nervosismo sale e corticchia per una parola di troppo, viene espulso dal direttore di gara. Ancora gli abruzzesi tentano di riaprire la contesa ma Pulsoni schiaccia troppo di testa da buona posizione. Non succede più nulla, la Recanatese vince per 0-2 in 25 giorni contro il Castelnuovo e vola sempre più in alto in classifica. No, siamo partiti bene, abbiamo preparato la partita proprio per aggredirli, per cercare di tenerli su e l'abbiamo fatto. Anzi, molto probabilmente vorrei rivedere l'episodio su Stefano De Gidio che avesse dato il rigore lì, cambiava completamente la partita. Però la squadra ci ha provato e quello che avevo raccomandato è di essere molto attenti a non prendere gol perché altrimenti sul 2-0 poi la partita sicuramente sarebbe stata ancora più difficile. Purtroppo hai ragione tu, un errore difensivo perché 4 contro 1 abbiamo preso gol su un cross e niente. Poi è diventato tutto più difficile, però con quello che ho visto grande impegno, grande determinazione in questa partita vogliamo in qualche modo cercare di recuperarla. Non ci siamo riusciti, però non cambia niente, andiamo avanti per la nostra strada sapendo che domenica abbiamo un'altra partita difficilissima e ci concentreremo su quella. L'avevamo preparata in modo giusto perché stavamo creando difficoltà a loro purtroppo dopo il gol naturalmente ci ha un po' tagliato le gambe. Però sapevamo che era una partita strana, una partita difficile, i cambi giocatori dopo un quarto d'ora però ci abbiamo provato, questo non devo assolutamente rimproverare niente ai ragazzi era difficile, non ci siamo riusciti, pensiamo alla prossima. Grazie.